Bentornati su Dragon Ball Z Kakarot in un video davvero speciale. Questa è solo una primissima delle tante guide che arriveranno in questi giorni, ci saranno anche video speciali con le mod, quindi ragazzi con trasformazioni assurde, lasciate ora un like, iscrivetevi adesso al mio canale YouTube attivando la campanella delle notifiche così non vi perderete nessuno dei prossimi video. Partiamo quindi da subito con la primissima guida. Vi ringrazio per il supporto alla serie, ma come sappiamo i video su Kakarot, come dico sempre, sono appena iniziati. Piccola premessa, come sappiamo all'interno del gioco c'è la bacheca Comunità, in che consiste ci permette praticamente di ottenere dei bonus particolari. Lasciate perdere la comunità dei guerrieri, quella culinaria, io mi sto concentrando sulla comunità di allenamento. In questa community, come vedete, mano a mano andando ad aggiungere sempre più personaggi che hanno legami speciali tra di loro, possiamo ottenere più esperienza in battaglia, difesa in mischia, difesa aura, mano a mano andando avanti, sempre più bonus, fino ad arrivare addirittura al bonus massimo che è l'esperienza ottenuta in battaglia del 100%. Quindi ragazzi, quando sconfiggerete degli avversari, otterrete un botto di esperienza per livellare veramente al massimo. Ecco, per fare tutto ciò bisogna avere gli emblemi ad un livello veramente elevato. Come vedete, io al momento questo Trunks ce l'ho ad un livello alto per quanto riguarda proprio la sezione della comunità di allenamento. Vediamo questo Goten, anche lui non è messo assolutamente male. Vediamo anche Videl. Come vedete, ragazzi, alcuni emblemi sono potenziati al massimo. Come fare per potenziarli? In realtà è anche abbastanza semplice, bisogna dare loro dei doni, che sono questi oggetti, che come vedete possono permettere di avere più due di allenamento, più due di sviluppo. Ragazzi, vi sto spiegando un attimino la meccanica, ma è molto semplice. Se state giocando a Kakarot, dovreste sapere già come funziona. Direi di andare oltre. Perché, ragazzi, ci sono determinati oggetti che sono veramente molto utili, dei doni speciali, come ad esempio l'acqua del risveglio suprema, che permette di dare più 8 a tutte le capacità, più 20 di amicizia. Quindi il personaggio, l'emblema in sé, sale di livello, e poi più 8 a tutte le caratteristiche. C'è proprio all'allenamento, alla parte culinaria, alla parte dei guerrieri Zeta. Quindi, ragazzi, i vostri emblemi, mettendo i massimo due di questi oggetti, vanno potenziati al massimo tutti. Sarebbe il top, ed è quello che sto facendo io. Per trovare dei doni specifici, in realtà, bisogna girare molto per la mappa, e non sempre sono doni validi. Come fare quindi per trovarne uno veramente molto valido, che, come avete visto, ci dava più 8? C'è un metodo particolare, che, al momento in cui sto parlando e sto registrando questo video, è valido. Chissà se poi con una patch in futuro verrà tolto, quindi sbrigatevi il prima possibile ad utilizzarlo, perché potrebbe essere patchato. Allora, l'obiettivo è il seguente, cercare di ottenerlo più volte tramite un piccolo trucchetto. Quindi quello che vi mostro è un trucco vero e proprio. Partiamo da subito con questo presupposto. Io sono qui nella zona di Ginger Town. Ve la faccio vedere un attimino dov'è. Si trova, ecco qua, in alto, sopra la capsule Corporation, vi dirigete qui a Ginger Town. La zona della mappa in cui dovete recarvi è praticamente questa. Faccio un piccolo zoom. Quindi, proprio leggermente sopra la città dove ho messo il mio indicatore, che è quello là davanti a noi. E non dovete far altro che arrivare qui. Come vedete, eccolo qui. Arrivare in questa parte e attraversare quello che è il portale. Guardate un attimino che succede. Io, attraverso questo portale, guardate un po', ottengo degli oggetti, ottengo anche un Vita Drink, diverse sfere, ma ci sarà, alla fine di questo percorso, un oggetto speciale, fondamentale. Guardate un po', mi sposto un po' sulla destra e raccolgo un'acqua del risveglio suprema. Se io vado un attimino nella comunità, nella bacheca comunità, e vado a vedere di che oggetto si tratta, è un oggetto veramente molto utile. Perché, ad esempio, facciamo finta di voler potenziare Goku. Eccolo qua. È quello di cui parlavamo prima. Più 8 ha tutte le capacità, più 20 di amicizia. Quindi lo portate al massimo nel giro di un paio di oggetti come questo. Ok. Il problema qual è? È che voi non potete ripetere questo percorso continuamente. Perché, se non sbaglio, spawna ogni 20 minuti. O meglio, potete ripercorrerlo, se volete. Guardate un attimino, ovviamente si fa senza volare. Però, non ci sono gli oggetti. Sono già stati recuperati. Quindi, ragazzi, com'è che si può fare? C'è una soluzione che per ora funziona ed è incredibile. Ragazzi, preparatevi, perché è un trucchetto veramente assurdo. Vi faccio vedere, ecco, fino all'ultimo momento, che ormai l'oggetto è stato recuperato, non c'è niente da fare, bisogna aspettare che ne sono una ventina di minuti, se non sbaglio. Ma adesso vi faccio vedere cos'è che dovete fare. Arrivate qui. Vi piazzate qui, davanti a questo cerchio. Andate nelle impostazioni del gioco. Voi salvate. Quindi, che ne so, vado a scegliere uno dei slot di salvataggio. Per me è il decimo. Scegliete quello che volete. E poi, vado semplicemente, ragazzi, a ricaricare lo stesso slot che io ho salvato poco fa. Quindi, andiamo. Vado a ricaricarlo e con un po' di attesa, perché sappiamo che i caricamenti di Dragon Ball Z Kakarot sono un po' noiosetti, con un aggiornamento dovrebbero essere velocizzati, potremo già subito recuperare nuovamente quell'oggetto. Vediamo. Ecco qua. Sono ovviamente respawnato proprio qua, perché è il luogo in cui ho salvato, ho ricaricato lo stesso salvataggio. E guardate un po', fin da subito, senza aspettare 20 minuti, vado a riottenere gli oggetti, compreso un Vita Drink, che non è male, riottengo tutte le sfere Z che come vedete sto recuperando proprio adesso, Reccaio è pure soddisfatto di me, e mi vado subito a riottenere, eccolo qua ragazzi, l'oggetto e il dono, ovvero l'acqua del risveglio suprema. Quindi ragazzi, si perde, credo un 3 minuti circa, ogni singola volta, però questo permette in maniera incredibile di andare a potenziare la comunità nel giro più o meno di una giornata. Ovviamente dovete recuperare tutti gli emblemi con varie missioni secondarie e così via, però questo vi permette di procedere in maniera molto più veloce. Vediamo se riesco a trovare un emblema che non è stato potenziato. Prendiamo Kiki. Al momento non l'ho potenziata per nulla, guardate quanto è utile. Ne vado a sprecare uno, boom, quasi potenziata al massimo. Ovviamente se ne vado ad utilizzare un altro, ragazzi, il personaggio ovviamente sale alle stelle e diventa potentissimo, potenziato al 100%. Con questo piccolo trucchetto, ragazzi, che ne so, con qualche ora andrete a potenziare un botto di emblemi praticamente quasi tutti, quindi credo che sia una soluzione veramente utilissima. Proviamo nuovamente questa tecnica che, ripeto, ragazzi, è veramente molto semplice, quindi mi vado a posizionare qua, ma giusto per comodità, potete salvare in realtà dove volete. Quindi, vado a fare la stessa cosa di prima, vado a salvare, aspetto che il salvataggio venga completato e poi, vediamo un attimino, vado nella sezione carica e vado a caricare lo stesso salvataggio che ho appena fatto. Ovviamente, vi taglio il caricamento. Eccoci qua, ci ritroviamo di nuovo qui e ragazzi, funziona. Per ogni volta ci perdete, secondo me, un 3 minuti, quindi relativamente poco. Rispetto all'attesa che dovreste fare è veramente molto molto più veloce. Si spera che magari con qualche aggiornamento vadano a velocizzare un attimino i caricamenti, ma non sappiamo se poi con un aggiornamento andranno a facciare questa cosa. Io in realtà non credo, però, ragazzi, per evitare qualunque tipo di problema, fatelo già in questo periodo, così andate subito a potenziare tutti i vostri emblemi, state tranquilli, non avete alcun tipo di problema e in questo modo, ragazzi, diventate potentissimi. Soprattutto andrete a beneficiare di tanti, come vedete, di tanti effetti veramente fondamentali. Come notate, a me mancano un botto di emblemi, li andrò a recuperare un po' nel corso del tempo, però, per me era fondamentale puntare sulla comunità di allenamento perché voglio raggiungere il grado massimo, così otterrò il 100% di esperienza in modo tale da livellare in maniera velocissima e di conseguenza i miei combattenti saranno a livello 100 nel giro di poco. Ovviamente, questo lo sto facendo oltre che per diventare più forte nel gioco, ma anche per raggiungere più velocemente quello che è il finale segreto che da quanto ho capito richiede livelli altissimi per i propri personaggi. Eccolo qua pure il caro Popo, eccolo qua, sbam e sale alle stelle. Se ne vado ad utilizzare un altro, ovviamente Popo si va a ripotenziare in maniera assurda. Io al momento, ragazzi, da come notate, quindi sì, tendenzialmente sto sfruttando veramente pochissimo, anche nel walkthrough, nella serie, ho sfruttato veramente poco 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 l'intera sezione della comunità, questo perché preferivo procedere un attimino più velocemente e solo in un secondo momento concentrarmi sulla comunità stessa. Però è fondamentale concentrarsi su questo aspetto perché da come notate potreste ricevere veramente tanti tanti benefici a partire, che ne so, da Aura, PS, effetti guarigione in più, poi prezzi di vendita più bassi. Ragazzi, sfruttate la comunità, non ignoratela. Ora voglio sapere il vostro parere. Cosa ne pensate? Ovviamente ragazzi è un piccolo trucchetto, potete non usarlo se volete un'esperienza più pura e di conseguenza preferite non usare trucchi, però è una soluzione magari chi non vuole stare ore e ore ed ore a cercare oggetti in giro per la mappa ed è un ottimo espediente. Quindi ragazzi tocca a voi, fatemi sapere assolutamente cosa ne pensate, questa è solo una delle tante guide che farò nel corso dei prossimi giorni, oltre alle guide arriveranno anche delle mod ragazzi incredibili con trasformazioni mai viste, vedremo addirittura Bardak qui su Dragon Ball Z da Kakarot quindi non potete fare altro che iscrivervi. Se questa guida vi è stata utile dovete lasciare adesso un like perché ovviamente più like vedrò più ne farò tante altre utili come questa e anche di più chi lo sa. Quindi ragazzi grazie a tutti voi mi raccomando iscrivetevi al mio canale YouTube cliccando qua al centro guardate altri video cliccando qui a destra e sinistra recuperate la serie se non l'avete vista quindi alla prossima ciao!